la scomparsa improvvisa di luca giurato ha molto toccato mara venier che proprio con lui ha condotto nel 1996 un'edizione di domenica in terminata con un ginocchio rotto della conduttrice dopo che lui l'aveva fatta cadere a terra tentando di prenderla in braccio e proprio lei ne ha parlato al tg1 durante la diretta delle 20 tg1 la gaf su mara venier e proprio il tg1 restando in tema luca giurato ha commesso una gaf chiamando mara venier maria venier un errore modificato in corso d'opera ma che ha fatto sorridere i fan online infatti sono molti a scrivere che questo è stato l'omaggio migliore che il telegiornale potesse fare al conduttore queste le parole di mara venier ho perso luca è un pezzo della mia vita un legame affettivo fortissimo per me oggi è una giornata di dolore vero un legame fortissimo durato tutti questi anni abbiamo vissuto la prima domenica in dove lui mi ha voluto mi aveva visto in un programma di luciano rispoli gli volevo molto bene a parte la riconoscenza del lavoro perché grazie a lui è accaduto tutto nella mia vita professionale però c'era un bel legame tante risate tanti episodi era un signore e un uomo molto sensibile che è un uomo molto sensibile